Monticelli, il punto nascita dell'ospedale di Atri rischia di chiudere. Siete pronti a fare le barricate? Io ho chiesto al Presidente D'Alfonso e all'assessore regionale di intervenire il 13 settembre ad Atri affinché ci faccia conoscere quali possono essere le direttive per il futuro del San Liberatore, quali sono la programmazione sanitaria, perché dire che si chiude senza dire prima che cosa si vuole fare è una scelta politica sbagliata di cui bisogna ricordare i tanti anni di battaglia fatta contro l'amministrazione regionale di Chiodi e Varrassi quanto hanno depauperato un'eccellenza quella dell'ospedale del San Liberatore. L'ospedale di Atri rischia di essere ulteriormente depotenziato perché negli anni hanno chiuso già diversi reparti. Sì, abbiamo dovuto assissere a una serie di ricorsi, io da ex sindaco di Pineto ho fatto insieme ai consiglieri di Atri e Silvi tante battaglie con ricorsi altare per la questione di cardiologia, la chiusura della psichiatria, la chiusura dell'urologia e credo che è un fatto politico che adesso che c'è il nuovo governo retto dal Presidente D'Alfonso debba avere una linea diversa, bisogna andare sul territorio, parlare, fare delle scelte importanti e non mi va il principio che la prima dichiarazione dopo pochi mesi dell'insediamento di questa giunta si parla di chiusura si deve attivare un percorso democratico sul territorio avendo rispetto per quello che si è fatto in questi cinque anni tutta questa area bassa, perdendo anche importanti reparti, può anche significare una riduzione anche a livello turistico perché il turismo comunque necessariamente ha bisogno di tanti servizi. Ecco, su questo noi continuiamo questo dibattito politico interno tutto al Partito Democratico. Mi dispiace che chi è al governo di questa regione e chi ha la responsabilità dell'assessorato non si è ricordato di quanti anni e quante battaglie abbiamo fatto. Quindi ci fermiamo un attimo, ci si rifletta, ci si siede e si possono trovare soluzioni. Noi abbiamo centinaia di persone che vanno, di pazienti che vanno per fare interventi che possono fare qualsiasi ospedale. Allora che si faccia una riflessione interna su questo, ma che si faccia anche una riflessione per esempio su, in questi giorni se ne parla tanto, sull'aslo unico o due asli. Allora se questo potrebbe far risparmiare, quindi far rientrare dal commissariamento che noi siamo convinti perché la politica sanitaria deve tornare sui banchi del Consiglio regionale si possono trovare altre formule. Se poi tutto questo non è possibile troviamo un ragionamento fatto a tavolino con una programmazione seria e non solo quella di tagli.